Il bilancio delle vittime 11 sopravvissuti 17 il numero dei dispersi. Tragedia di Rigopiano, procuratore in ritardi nei soccorsi non decisibili, inchiesta per disastro e omicidio plurimo. Allerta maltempo a sud, nubifragio su Sicilia e Calabria, morto un anziano nel Palermitano, strade come fiumi a Sciacca, in Sardegna allarme per i corsi d'acqua. Politica a legge elettorale, oggi la consulta decide, sull'Italicum, tutti i dubbi sottoposti ai giudici, 5 ordinanze presentate ai tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova. Caso Regeni in un video inedito, colloquio del ricercatore con il capo degli ambulanti, girato con una microcamera della polizia, l'uomo chiede del denaro a Regeni che si rifiuta di concederglielo. USA, Trump ferma i fondi per l'aborto con un ordine esecutivo e gli Stati Uniti fuori dall'accordo commerciale transpacifico intanto è designato Pompeo a capo della CIA. USA, Trump ferma i fondi per l'aborto con un ordine esecutivo e gli Stati Uniti fuori dall'aborto con un ordine esecutivo e gli Stati Uniti fuori dall'aborto con un ordine esecutivo.